Antonio Azzollini, senatore migrato da Forza Italia al nuovo centrodestra di Angelino Alfano, all'epoca dei fatti contestati era sindaco di Molfetta. Agli indagati, sono 48, tra cui 5 società, la procura di Trani contesta a vario titolo una sfilza di reati, tra i quali associazione per delinquere, falso, abuso d'ufficio, truffa, frode in pubbliche forniture, concussione e minaccia a pubblico ufficiale. Secondo l'accusa, il sindaco Azzollini avrebbe appaltato nel 2007 i lavori per la costruzione della diga foranea e del nuovo porto commerciale per 72 milioni di euro, costo lievitato poi a 147 milioni per gli interventi di bonifica dei fondali da migliaia di ordigni bellici inesplosi. Gran parte dei finanziamenti pubblici sarebbero, secondo la procura, poi stati distratti dal comune che li avrebbe utilizzati per ripianare i conti del bilancio cittadino. Secondo i magistrati, il senatore Azzollini è stato promotore dell'associazione per delinquere che ha dirottato su Molfetta e poi distratto centinaia di milioni di euro di denaro pubblico. Del presunto gruppo criminale avrebbero fatto parte anche Vincenzo Balducci, ex dirigente comunale ai lavori pubblici, e Giorgio Calderoli, procuratore speciale dell'impresa CMC di Ravenna, capofila dell'associazione temporanea d'impresa che si è aggiudicata i lavori.